Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se avete aperto questo video è per semplici tre motivi. Uno, perché siete preoccupati dal fatto che Instagram non fa vedere più quanti like ci sono sotto i post. Due, perché volete saperne di più sull'argomento. Tre, perché probabilmente siete iscritti al mio canale e quindi di conseguenza state vedendo anche questo video. Nel caso fosse così, grazie mille. Oggi vi parlerò di otto punti che sono la possibile causa del fatto che Instagram abbia deciso di rimuovere la quantità di like visibili sotto i post. Primo, aumentare la qualità generale della piattaforma. Allora, se Instagram avesse lasciato i like sotto i post, gli influencer o comunque le persone con una maggiore quantità di follower hanno una quantità di like sotto i post che siano buoni di qualità o che non siano buoni di qualità decisamente alta. Invece, utenti con molti meno follower hanno una quantità di like davvero davvero bassa. E questa è anche una questione di meritocrazia. Due, molto importante, diminuire la fetta di utenza generale che genera like con botta a pagamento. Visto che, diciamo, è molto semplice far salire i post a livello di like pagando con dei bot appunto fake, questo può essere anche uno dei motivi. Appunto, togliendo la quantità di like sotto i post, non ha più senso pagare bot per avere like. Tre, anche esso molto importante, diminuire lo stress da like. Ci sono molte persone che sono sempre lì su Instagram a controllare l'ultimo posto, fammi vedere quanti like ho avuto alla foto, e questo provoca danni in certe persone che appunto soffrono di questa patologia e potrebbe anche esso essere un motivo. Quattro, rendere la community di Instagram più attiva. In che senso? Rimuovendo la possibilità di interagire con i like, o meglio, puoi sempre lasciare il like sotto al post, però non si vedrà la quantità di like. Quindi, in un certo senso, è come averli rimossi. Rimane il commento. Il commento è molto importante, è anche meglio del like, perché tu col commento riesci a interagire con le persone che vedono il tuo post e magari possono darti consigli per migliorare, possono dirti la loro opinione, o semplicemente possono gratificarti, e quindi il lavoro che hai fatto per postare appunto quel post, scusate il gioco di parole, è stato apprezzato. Cinque, interagire con i post con modi diversi. Appunto come i commenti, però potrebbe essere anche la condivisione nelle storie del post, oppure potrebbe essere il salvare il post. Ci sono tanti vari altri modi per interagire con i post e quindi dare una chance a tutte le varie azioni che ci offre la piattaforma. Sei, rendere le aziende più facilitate a valutare un account redditizio. Perché? Se le aziende vogliono spingere sugli influencer per promuovere la propria azienda o i propri prodotti, vanno a cercare un utente, in primis che tratti in qualche modo il loro settore, e in secondo luogo che abbia comunque una fetta di utenza che lo segue abbastanza elevata. Se un utente va a comprare i follower, i like, i commenti, l'azienda, sì, da un lato vede i numeri, però non riesce a rendersi tanto conto se l'account appunto viene seguito o meno, perché non può guardare le statistiche dell'account. Da un altro punto, invece, rimuovendo questa possibilità di comprare tutte queste interazioni, l'azienda vede se questo account che tratta il mio argomento è parecchio seguito e perché realmente è parecchio seguito. Non fa una piega. 7. Pareggiare la media tra utenti pluriseguiti e utenti di media utenza. Se prendiamo un influencer con un milione di seguaci e un utente medio con 100-200 seguaci, vediamo che a parità di qualità di post, l'influencer con un milione di follower avrà una quantità di like esorbitante. Invece, l'utente medio avrà appunto una quantità di like addirittura inferiore alla media. Quindi, togliendo la possibilità di vedere quanti like ci sono sotto un post, gli utenti che vedono il post non sono più tanto invogliati a mettere il like se vedono che appunto la qualità non li soddisfa. Quindi, tutto sommato, anche questo potrebbe essere uno dei motivi. 8. Valutare con maggior criterio un post prima di lasciare il like. Se il post non è di vostro gradimento, però l'ha postato un influencer che seguite, non per forza dovete lasciare il like. Vi spiego uno semplice motivo per il quale non dovreste farlo. Io posto un qualcosa. Secondo me è venuto bene. Voi lo vedete, non vi piace, secondo voi c'è qualcosa da migliorare, però allo stesso tempo mi seguite, quindi da un certo punto di vista vi dispiace non lasciare il like e lo lasciate. Io che vedo quel like dico, ah bene, se sta piacendo a tutte queste persone allora magari vuol dire che il post è un buon post, funziona. Però non è la verità, perché appunto non vi è piaciuto e avete lasciato like solamente per un altro motivo. Quindi da un certo punto di vista questo è un altro dei motivi che reputo giusto. Prendiamo come esempio il mio profilo Instagram. Allora, se andiamo a vedere l'ultimo post, ad esempio, esce scritto piace a e altre persone, non esce più il numero. Però se noi andassimo a vedere i dati statistici, se appunto avete un profilo aziendale, potete vedere la quantità di like e tutte le varie interazioni che ci sono state. Quindi in un certo qual modo la quantità di like si può sempre vedere. Il problema è che potete vederlo solamente sui vostri post, non sui post degli altri. A questo punto è un male? Secondo me no. A voi non dovrebbe interessare quanti like fanno le altre persone, appunto perché cosa vi entra in tasca. Quindi tutto sommato non c'è nulla di male. Comunque con questo vi invito a seguirmi su Instagram, non per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché mi piacerebbe avere interazioni in più con voi e su Instagram ci sono un po' di spoiler appunto sui video che usciranno in futuro. Quindi se vi va di essere spoilerati sui prossimi video, seguitemi su Instagram. E niente ragazzi, questo breve video di informazione generale, la mia parola su questo argomento, finisce qui. Ovviamente come al solito se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare, iscrivetevi al canale, condividete questo video con chiunque dove vi pare e noi ci rivediamo appunto in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!